ciao bimbi e benvenuti ad un nuovo video di gioca con me gioca per bambini oggi vi mostrerò questi bellissimi alimenti ovviamente sono un fake food e come potete vedere però ne abbiamo davvero di diversi dai dolci alle verdure alla frutta al junk food insomma un po di tutto adesso andiamo a spacchettare questo bellissimo pacchetto per farveli vedere ovviamente ognuno per categoria per cui andiamo ad aprire il tutto ecco qui la prima divisione che abbiamo fatto è tra la frutta e la verdura come potete vedere iniziamo dalla frutta da questo bellissimo mandarino poi cosa abbiamo l'anguria il limone poi una fetta di arancia dell'uva e anche dell'uva bianca poi vediamo un po abbiamo delle banane una fragola che a primo impatto mi sembrava anche una noce poi adesso passiamo invece alla verdura abbiamo le pannocchie la carota questo potrebbe essere un insalata mentre qui come potete vedere abbiamo la fogliolona l'insalata che ci servirà per il nostro hamburger dei piselli una patata questa è la prima volta che la vedo perché con la buccia poi abbiamo un cetriolo dei peperoni e anche dei pomodori questa è stata quindi la prima divisione diciamo di cibo salutare adesso passiamo al cibo un po più pasticciato abbiamo fatto la divisione tra dolce e salato iniziando dal salato abbiamo queste simpaticissime patatine che come potete vedere sono messe singolarmente all'interno del pacchetto mentre poi abbiamo la variante tutte insieme per cui sono le stesse patatine solamente che in una in questa confezione di cartoncino oserei dire sono risposte in modo differente poi abbiamo uno dog in cui si può togliere dog e ci rimane solo il pane poi abbiamo una coscia di pollo abbiamo anche la pizza come potete vedere ne abbiamo tre pezzi addirittura poi abbiamo le patate in chips anche queste sono la prima è la prima volta che le vedo poi che cosa abbiamo abbiamo il nostro hamburger quindi la parte superiore anzi sembrano anche due parti superiore poi all'interno ci mettiamo il nostro hamburger il nostro pomodoro e anche i cetrioli e poi il nostro panino è davvero davvero prontissimo ecco qui lo lasciamo qui poi adesso invece passiamo alla parte dolce vediamo un po in primo piano cosa vedono subito i miei occhi è questo bellissimo gelato di cui si può togliere anche la la pallina sia bianco che rosa poi abbiamo degli squisitissimi donuts e uno anche con la glass oserei dire al al cioccolato poi abbiamo un brezel una brioche e questo sembra forse un brownie o magari un pasticcino sì un pasticcino al cioccolato con una copertura alla fragola ecco come potete vedere sono davvero tantissimi e anche davvero originalissimi dal cibo diciamo un pochino più pasticciato a quello più salutare che vi ho fatto vedere prima come frutta e verdura insomma c'è davvero da sbizzarrirsi e sono davvero davvero originali qui si può togliere la pallina di gelato e magari dentro ci possiamo mettere anche delle nostre patatine visto che le patatine sono un po' il cibo preferito dei nostri bambini ecco qui sarebbe davvero davvero divertente un gelato diciamo un po' originale oserei dire ovviamente spero tantissimo che questi questi piccoli giochini che ovviamente vanno bene per i bambini dai tre anni in su vi siano piaciuti e se vi sono piaciuti regalatici un mi piace non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri nostri video ma soprattutto non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi ma soprattutto per ricevere news ogni settimana con bellissimi video e bellissimi playmobil films e ci vediamo qui la prossima volta ok ciao